Dal Vangelo secondo Luca Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme E mandò messaggeri davanti a sé Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo di consumi? Si voltò e li rimproverò E si misero in cammino verso un altro villaggio Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse Ti seguirò dovunque tu vada E Gesù gli dispose Le volpi hanno le loro tane E gli uccelli del cielo i loro nidi Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo A un altro disse Seguimi E Gustù dispose Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre Gli replicò Lascia che i morti seppelliscono i loro morti Tu invece vai e annuncia il regno di Dio Un altro disse Ti seguirò, Signore Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia Ma Gesù gli rispose Nessuno che mette mano all'aratro E poi si volge indietro E' adatto per il regno di Dio Parola del Signore Riprendiamo il cammino ordinario Che non vuol dire meno importante Ma il cammino ordinario della vita della Chiesa E riprendiamo la lettura continuata del Vangelo di Luca E in questa domenica abbiamo un punto decisivo del Vangelo di Luca Una specie di spartiacque Cioè il momento in cui, come dice il testo Gesù prese la ferma decisione Di mettersi in cammino verso Gerusalemme E da qui in avanti Gesù nel Vangelo di Luca E' sempre, sempre in cammino E questo ha fatto chiamare il Vangelo di Luca Un Vangelo sulla strada On the road, diremo in inglese Un grande camminatore Tutto quello che avviene d'ora in poi Avviene sulla strada Incontri, discorsi Parole, miracoli Tutto sulla strada Perché? Perché la vita di Gesù Naturalmente è una strada teologica Oltre che reale La vita di Gesù è tutta proiettata Verso Gerusalemme Cioè verso la Pasqua Verso quella conclusione finale Il senso di questo cammino è proprio quello E allora da subito Da questo momento Vengono messe in luce Alcune condizioni Di questo cammino Per seguire Gesù Per i discepoli di Gesù La prima condizione è Non chiudersi in una setta Non chiudersi in un In un circolo di eletti Come succede quando I discepoli Giacomo e Giovanni Davanti al rifiuto dei samaritani Voi sapete che tra i samaritani E il resto degli ebrei C'era una Inemicizia secolare Quando non lo ricevono I due simpatici apostoli Dicono Vuoi a Gesù Vuoi che diciamo Che scenda un fuoco dal cielo E li consumi Cioè vogliamo punire Questi cattivi Che non ci ricevono Ma Gesù Si voltò E li rimproverò Non avete capito niente Ecco Del mio messaggio Il cuore aperto L'amore anche verso i nemici Ancora sono lontani Da questo genere di reazione E poi ci sono Tre personaggi anonimi Che vogliono seguire Gesù Ed è una modalità Un modo con cui San Luca Riflette Sul discepolato Sulle condizioni Per seguire Gesù Seguire il Signore È una scelta radicale Non si concilia Con tanti compromessi Come invece Purtroppo Facciamo spesso anche noi Seguire Gesù Sì però Sì ma Va bene Fino a un certo punto Però E qui Gesù pone Delle condizioni Che il figlio dell'uomo Non ha dove posare il capo Seguire Gesù È un'itineranza Che ti chiede sempre Di non Metterti sul divano Direbbe Papa Francesco Ma di continuare a camminare Nella fede Nella ricerca Della volontà di Dio Del non fermarti sulle tue sicurezze La seconda Lascia che i morti Seppelliscono i loro morti Tu invece Va a annunciare il regno di Dio Che sembra una frase molto dura Come dire che La chiamata di Gesù Deve superare anche i legami stessi Familiari e affettivi Più profondi E la terza Nessuno che mette mano all'aratro E poi si volge indietro È adatto per il regno di Dio La scelta di seguire Gesù È una scelta irrevocabile Che chiede di non ripensarci Ma di lanciarsi In questa avventura Dietro di Lui Ecco Seguire Gesù Come dire Non è un Uno stile per cuori deboli È per gente avventurosa È per gente Che ha voglia di lanciarsi Dentro una relazione Così profonda Che viene prima Di ogni altra relazione Seguire Gesù È un'avventura affascinante Ma anche molto esigente Possiamo davvero chiederci Chiedere a ognuno di noi Che si chieda Ma io come sto seguendo Gesù Ma sono disposto A partire Spiritualmente A volte anche geograficamente Ma molto più spesso Nel cuore Per capire che cose Il Signore mi sta chiedendo E per mettermi in cammino Verso nuovi orizzonti Verso nuove terre Verso terre anche inesplorate Cioè verso scelte nuove Che sempre destabilizzano Ma che chiedono Di proseguire Quel cammino Verso Gerusalemme Nel nostro caso Verso la Gerusalemme celeste Insieme a Gesù Anzi Dietro Gesù È Lui il Maestro È Lui che sceglie la strada Noi discepoli Seguiamo Per mettermi in cammino Per mettermi in cammino Per mettermi in cammino Per mettermi in cammino Per mettermi in cammino